0 Quando è scattato questo allarme? Questo allarme è scattato 10 minuti alle 4, alle 16 Praticamente un'ora dopo l'apertura del fashion Che è successo? Quindi siete uscite voi, sono usciti i clienti? Sì, è stato dato l'allarme generale dove si informava di raggiungere i punti di raccolta Non si sa per quale ragione, sia ai clienti che agli operatori del centro Si parlava di insulti che avreste ricevuto? Sì, perché dai clienti è stato detto che noi stavamo scioperando Ma in realtà non era così, insomma Abbiamo preso pure del discorso di essere stati noi a mettere la bomba Cioè i dipendenti aver messo una bomba qua nel centro Si dice che sia stata una telefonata anonima arrivata in direzione E' questo che vi risulta? Guardi, io al momento non lo so Però deduco che sia stata una cosa del genere Però le ripeto, noi adesso dobbiamo rimanere qua Almeno una persona a testa come dipendenti Fino all'arrivo degli artificieri, grazie Dove praticamente dobbiamo andare a visitare ogni negozio Negozio per negozio Quindi potrebbe anche finire tardi questa cosa? Molto tardi ed è Pasqua per tutti Allora, mi ha detto di entrare con una o due persone Non tardi, per voi Adesso io vado dentro con le ragazze qua E dopo vengo fuori con loro Venite dentro voi Ma per fare che cosa posso? Per recuperare Ok, allora noi non ci interessa Abbiamo già preso tutto Allora fermi con me Allora però oggi non si può chiudere Posso avvisare un'azienda? Quella volta con il giro Noi possiamo andare a vedere Questo è un'azienda? Noi possiamo andare a vedere Questo è un'azienda? Allora fermi con le ragazze qua